I capigruppo di maggioranza intendono sollevare con forza il problema di rendere agibile le sedute del Consiglio, che non può essere preso in ostaggio dalle intemperanze, dalle minacce e dalle continue violazioni al regolamento da parte di alcuni consiglieri comunali dell'opposizione irrispettosi delle istituzioni degli altri consiglieri e della sindaca. Ripristinare l'agibilità democratica di questo Consiglio comunale è imprescindibile per poter discutere di qualsiasi argomento, dicono i capigruppo. Poi rivendicano, solo su un confronto corretto, politicamente alto e progettuale, si possono fondare le basi di un dibattito utile alle città non caratterizzato da livore e cattiveria. Noi vorremmo un confronto del merito anche per arritire le proposte che arrivano in Consiglio. Noi siamo per la politica del fare e del costruire. Gli atteggiamenti avuti nell'ultimo Consiglio comunale accusano sono di una gravità assoluta, sia dal punto di vista personale che politico. Chi urla dimostra di non avere argomenti. Il Consiglio comunale è tospeso.